Questi fondi di cui appunto si parlavano i vari giornali non sono mai stati presi dall'istituto universitario che io dirigo perché per legge non può beneficiare di alcun finanziamento pubblico. Il candidato del Movimento 5 Stelle fa chiarezza, Simone Borile risponde alle accuse, un attacco rivolto alla sua sfera professionale. Nelle scorse ore era circolata la voce che la scuola di mediazione linguistica Ciels, di cui è direttore, aveva percepito fondi regionali. Una notizia assolutamente falsa, dice Borile, messa in giro ad hoc per attaccare un candidato che sta acquistando consensi. Il mandante può essere, cioè può essere a Canal Grande. Sappiamo perfettamente che chi in un qualche modo occupa una posizione politica importante a Padova e a Treviso, prima o poi arriva anche alla conquista del Veneto. Quindi ci sono stati, a mio giudizio, anche delle disposizioni che sono partite proprio dall'alto per cercare di affossare un candidato che viene visto pericolosamente vincente. Un attacco non molto velato dunque alla Lega Nord. Per Borile, chi ha diffuso la notizia, ha confuso il Ciels con un altro ente di formazione, sempre da lui presieduto e regolarmente accreditato in regione. Il candidato pentastellato annuncia che prenderà provvedimenti. Sul fronte interno delle comunarie, Borile invece non teme l'intenzione di Leonardo Forner di presentare ricorso. Io proseguo, a me interessa affrontare i problemi della città, proporre risposte. Tutto il resto a me non interessa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti